Prima di accedere all'esame vero e proprio è necessario leggere il disclaimer La mancata accettazione delle regole IVI illustrate comporterà l'impossibilità di eseguire il test Tale disclaimer è differente per ogni modulo d'esame Pertanto va letto con attenzione ogni volta che si avvia un nuovo test Dopo aver letto il disclaimer si può cliccare su inizia esame Per la lettura di contenuti particolarmente lunghi è possibile ridimensionare in questo modo l'interfaccia di ICE Essa può anche essere ingrandita a tutto schermo sfruttando tra l'altro la barra di scorrimento funzionante sia a schermo intero sia a finestra ridotta Durante lo svolgimento dell'esame è possibile utilizzare tutti i normali applicativi installati sul computer passando dall'uno all'altro con le normali modalità del multitasking di Windows ad esempio avvalendosi della barra delle applicazioni che resterà sempre subito sotto l'interfaccia di ICE Mantenendo quest'ultimo sufficientemente ristretto tra il desktop e la barra delle applicazioni risulterà agevole lo svolgimento del test d'esame In casi estremi sarà possibile ridurre ICE ad icona Sarà sufficiente un doppio clic per riportarlo alle dimensioni normali Nel rispondere ad una domanda pratica il candidato potrà accedere al disco del candidato che è automaticamente stato creato all'avvio dell'esame Aprire il file da modificare con il programma adatto Eseguire le operazioni richieste Ed infine salvare le modifiche apportate Un piccolo approfondimento è d'obbligo per il disco del candidato Esso è un disco virtuale che viene creato nel momento dell'avvio dell'esame e che viene cancellato quando, al termine della prova i file vengono inviati nel cloud di ICE per essere valutati e corretti Durante lo svolgimento del test il candidato deve operare tutte le modifiche e salvare tutti i documenti all'interno di tale disco Tutti i file salvati esternamente non verranno inviati per la correzione ed alcune domande potrebbero dunque risultare saltate Le modalità d'accesso al disco del candidato sono tre dall'apposita icona sul desktop dalla scorciatoia nell'interfaccia di ICE da esplorare risorse di Windows nella parte sinistra dello schermo All'interno della struttura gerarchica di computer il disco del candidato assume la prima lettera di unità libera in base alla configurazione della macchina ospite Il candidato può sempre tornare a modificare la sua risposta purché non sia scaduto il tempo a disposizione Alcune domande prevedono l'inserimento della risposta digitandola in un campo testo appositamente predisposto L'interfaccia di ICE è dotata di una barra di navigazione che consente di scorrere le domande del test d'esame Inoltre, le domande sono numerate è dunque possibile saltare direttamente a quella desiderata La casella di controllo domanda completata serve unicamente come segnalazione e non è obbligatorio utilizzarla Inserendo il segno di spunta, il numero della domanda corrispondente appare evidenziato può essere un'indicazione utile al candidato per tenere a mente quali domande sono state già completate ma non è assolutamente necessaria ai fini del completamento ed invio dell'esame per la correzione Quando il candidato ha terminato tutte le domande deve controllare di aver chiuso e salvato tutti i file su cui ha operato Infine, deve cliccare Termina esame per attivare la procedura di invio dei pacchetti da correggere al cloud di ICE Nei casi in cui scade il tempo a disposizione quando il candidato non ha ancora terminato ICE provvede ad inviare in automatico il pacchetto con i file da correggere In questa circostanza, se sono state apportate modifiche non salvate esse vengono escluse dalla correzione Pertanto, si raccomanda il salvataggio frequente dei file modificati durante lo svolgimento dell'esame A tal proposito, ad un minuto dalla scadenza del tempo ICE stesso mostra un messaggio pop-up che ricorda al candidato di salvare e chiudere tutti i file aperti